bene carissimi amici ben ritrovati sul mio canale youtube arriva il nostro appuntamento siamo nel nostro appuntamento insieme per quanto riguarda il diario del mister quindi arriva il nostro appuntamento mensile con i miei metodi e andiamo a vedere quali sono le previsioni di ambata dai miei metodi presentati sul mio canale youtube nel mese di settembre sono arrivate belle vincite sapete bene che i miei metodi non vanno assolutamente trascurati o snobbati vanno anzi acquisiti nella versione completa perché sono dei metodi storici sono dei metodi che vanno alla grande sono dei metodi che voi li prendete oggi e vi valgono per la vita perché sono metodi veramente potenti andiamo a vedere quindi per chiunque fosse interessato all'acquisizione del singolo metodo del pacchetto metodi può contattare via whatsapp 3 4 8 7 5 4 7 7 1 5 per avere informazioni su come avere o il singolo metodo o la bellissima promozione del pacchetto metodi per esempio se fossi interessati a tutti questi metodi che propongo nel mio diario allora ambata perpetua metodo pazzesco un ambata una ruota il mese scorso ha pagato il 23 a milano in posizione è un metodo di grandissimo investimento che gioca un ambata una ruota il mese di settembre ha pagato anche il lambo secco nel metodo completo e ve l'ho fatto vedere nell'analisi estrazione quindi questo mese abbiamo il 20 sulla ruota di cagliari anche prima e quinta posizione tenteremo lambosecco 20 90 cagliari nazionale tutte milanapoli attenzione a questo 90 90 milano napoli anche terza e quinta posizione venezia da sbanco con l'ambata secca 1 anche prima e quinta posizione ambata turbo bari napoli 6 60 prima e seconda posizione ambata zig zag bari cagliari 72 anche prima e seconda posizione lambata k o che andata benissimo nel mese di settembre ambata secca 28 anche prima e quinta posizione gli ambi infallibili 14 83 14 23 a tutte le ruote ambata fatata altro metodo bomba questo mese ambata secca 5 prima e quinta posizione ambo energetico attenzione all'ambata di ambo energetico perché ogni mese va a pagare abbiamo il 65 cagliari firenze terza e quarta posizione gli ambi secchi sono questi qui 65 76 65 26 65 52 65 29 il bellissimo metodo incrocio vincente bari e roma ambata secca 13 anche seconda e quarta posizione l'isola felice cagliari firenze ambata 77 prima e quinta posizione e chiudiamo col favoloso metodo ambata big bari cagliari ambata secca 82 anche prima e seconda posizione queste sono le previsioni cari amici dei miei metodi di alcuni dei miei metodi selezionati per il mese di ottobre mi raccomando ovviamente sceglietevi un metodo 2 3 chiaramente giocarli tutti è impossibile quindi vi scegliete il metodo che vi piace di più e lo portate avanti questo è un servizio che dopo con le ambate già calcolate quindi per chi vuole ovviamente divertirsi a puntare uno più metodi chiaramente avere le versioni complete significa puntare per l'ambo secco e quindi diventa molto interessante venezia ras banco il mese di settembre ha pagato alla grande metodi come ambata fatata metodi come milanapoli ambata perpetua sono grandi metodi sono capolavori cari amici non vanno persi sono i bellissimi metodi quindi mi raccomando a non perdere le versioni complete speriamo che il mese di ottobre ci possa portare delle belle vincite del mio diario per adesso saluto a tutti mister sbancolosi